Hoop, che ci fai qui? La vera domanda è che cosa state facendo voi due? Questo è imbarazzante. Clark, fratellino, ci siamo già incontrati? Sento una vibrazione. Chi è questo strano spilungone? Qualcuno con cui non riesco a credere che Hop abbia accettato di collaborare. Collaborazione infruttuosa, l'incantesimo doveva condurci al portale. Non a te. E decisamente non a te. Anche noi cercavamo il portale. Negli occhi di Landon? Com'è andata? Fammi parlare con lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.